Quindi forse la chiusura che si è sempre, insomma spesso si parla di Casentino, valle chiusa in maniera negativa. Quindi allora attraverso anche questo progetto e questo percorso forse è un modo di riscoprire nella nostra chiusura in realtà dei lati belli, dei lati positivi, dei tesori nascosti appunto chiusi, protetti da questa valle che però vale la pena di conoscerli, di riscoprirli noi stessi perché possono diventare una risorsa. Per il nostro territorio, che pensi? Ti ringrazio per la domanda che viene precisamente ad hoc. Credo che hai proprio dato nel centro, nel senso che in un mondo con la globalizzazione iperveloce come ai giorni nostri riuscire a trovare delle oasi di pace che sono luoghi dove poter riscoprirti e riscoprire credo sia un'occasione unica. Il fatto che le montagne abbiano fatto in modo di far nascondere al momento e proteggere diciamo tra virgolette quello che è stato il Casentino dalle influenze esterne devono diventare il punto di forza. Mi spiego meglio. Il fatto che ancora oggi noi in Casentino ritroviamo determinati tipi di mercati, determinati tipi di usanze che erano presenti fino a 50 anni fa non è facile trovarle con la velocità della globalizzazione che c'è oggi. E il fatto che proprio Dante in questa valle, lontano da Firenze, in esilio, con tutte le difficoltà che stava vivendo è riuscito a tirare fuori questa perla meravigliosa che è appunto la Divina Commedia. Quindi andare in forma slow a piedi, a cavallo, in bicicletta a riscoprire una valle che secondo me va vissuta con questa formula perché a volte con dei colleghi in cui si sta cercando di promozionare il Casentino vengono delle comparazioni rispetto a Firenze che è una città o Arezzo che sono città e quindi siamo una dinamica differente o la Val d'Orcia stessa che è patrimonio di umanità. Il Casentino non è la Val d'Orcia e di conseguenza deve riconoscere quelle che sono le sue caratteristiche che sono tantissima natura, contatto proprio tu a tu con quella che sono proprio gli alberi, il parco delle foreste casentinesi, la cultura che è tanta dovuta ai tanti castelli che c'erano e ancora oggi alcuni presenti e ben visibili e poi il Casentino è meraviglioso perché è come se fosse un grembo di madre natura dove c'è proprio storie su storie e la cosa meravigliosa è che ogni paesino ha un proprio personaggio e un proprio simbolo lo stavo commentando prima durante la lezione con i tuoi ragazzi se uno va per esempio a Stia Prato Vecchio c'è Paolo Uccello che è stato un grande pittore di nascimento o lo stesso Jacopo di Casentino che è stato un altro pittore del periodo 18 Cristoforo Landino da Prato Vecchio, primo grande commentatore totale della commedia poi c'è anche le sorgenti dell'Arno per un discorso anche proprio naturalistico e gli etruschi che non entro nel merito perché ci dà pari tantissimo a Poppi, uno dei dieci più bei castelli d'Italia e c'è stata sotto la battaglia di Campaldino a Bibbiena, Bernardo Dovizzi che ha reintrodotto il teatro il rinascimento con l'opera La Calandra riferimento a un personaggio calandrino del De Caverno di Boccaccio se vai a Laverna c'è San Francesco con le stigmate se vai a Talla c'è Guido Monaco con la musica se vai a Camaldoli c'è uno dei luoghi che ha dato nome all'ordine in base al luogo dove è stato fondato l'ordine quando generalmente gli ordini prendono il nome del fondatore Francesco Francescani, Domeni Domenicani il luogo Camaldoli, tutti i Camaldoli del mondo sono un'emanazione del nome che è nato da qui quando San Romualdo è venuto a affrontare quest'ordine se poi, come ho commentato Talla ma la stessa Baglia Prataglia con tutte le attività nel cuore del centro del parco delle foreste casentinesi la cosa meravigliosa è che noi dobbiamo rimanere orgogliosi della nostra identità di avere ognuno il proprio paese ma quando andiamo fuori a raccontare la nostra storia dobbiamo essere casentinesi